L'estate sta finendo, un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che il futuro è già qua. Scusi ma lei canta per vivere? No! Faccio altro ovviamente, fatti trasportare dalla corrente con la nuova stagione di driving. Dalla combinazione perfetta tra potenza e sostenibilità nasce i D4, il primo su Volkswagen su piattaforma Meb 100% elettrico. Grintoso nelle linee e con elevate prestazioni dimostra quanto può essere irresistibile la mobilità elettrica, offrendoti anche il massimo della libertà. Grazie all'incontro tra tecnologie evolute e design innovativo, i D4 apre la strada a un nuovo modo di viaggiare, ancora più sostenibile e digitale. Il D4 si presenta fin dal primo sguardo sicura di sé. La silhouette viene definita con eleganza dai fari Matrix che nella loro versione IQ Lite ti riconoscono a distanza e ti salutano accendendosi ancora prima che tu salga a bordo. Così come dalle maniglie esterne totalmente integrate nelle portiere. Il perfetto dinamismo di quest'auto viene ulteriormente sottolineato dai gruppi ottici posteriori con tecnologia 3D LED, di cui l'illuminazione disegna le fiancate fino al logo Volkswagen. Tutto questo per uno stile carismatico e ancora più all'avanguardia. Il nuovo gioiello della casa di Volksburg è caratterizzato al suo esterno da una linea fluida, filante, ma al tempo stesso possente, che riesce a coniugare il carattere di un SUV con un'aerodinamica molto avanzata, che pensate genera un coefficiente CX di appena 0,28. Tutto questo pur mantenendo l'aspetto esteriore dell'ormai inconfondibile ID Family. A bordo i D4 offre un inedito concept di spazio, capace di garantire la completa libertà di movimento, grazie ai sedili Ergo Active, con funzione massaggiante a regolazione elettrica. In più, gli interni spaziosi e l'ampio vano bagagli conferiscono ad ogni viaggio una dimensione ancora più premium. Con i D4 non solo abbiamo la massima potenza di un SUV, ma anche la tecnologia di ultima generazione. Infatti, oltre a vedere le più importanti informazioni di marcia sull'innovativo ID Cockpit da 5,3 pollici, possiamo visualizzarle direttamente sul parabrezza, grazie al nuovo head-up display con realtà aumentata, che ci segnala ostacoli, curve pericolose e limiti di velocità. All'interno troviamo un'atmosfera lounge, un infotainment a 12 pollici con comandi touch, un enorme console centrale portaoggetti ed un nuovo design dei sedili con nuovi materiali. Pensate che sono composti da microfibra, fatta per circa il 20% da bottiglie PET riciclate. L'illuminazione d'ambiente può essere regolata con 30 diversi colori, per far risaltare di più le forme degli interni. Con questo nuovo modello della casa tedesca, continua il viaggio nella nuova era della mobilità elettrica. Con una ricarica da 0 all'80% in soli 30 minuti, abbiamo sempre garantite prestazioni eccezionali e un'autonomia fino a 520 km. Ma secondo voi è possibile essere totalmente green? La risposta è sì. Come? Con un impianto di energia solare. Ma chiediamola da Maglia, che ha parlato con Luciano Zanotti, titolare della Energreen. Nel nostro immaginario il momento preferito per ricaricare la nostra auto elettrica è alla sera, quando torniamo a casa, ma spesso è proprio quello il momento in cui la nostra casa ha bisogno di più energia. Con i nuovi sistemi fotovoltaici è possibile accumulare, grazie a delle batterie, l'energia che il nostro impianto fotovoltaico produce durante il giorno e sfruttare così quell'energia durante la sera. A San Marino i titolari di impianti fotovoltaici non hanno neppure bisogno della batteria, perché la rete centrale conteggia la produzione in eccesso del tuo impianto e la trasforma in un credito energetico utilizzabile entro l'anno successivo. In questo modo potrai sempre beneficiare dei kilowattora prodotti dal tuo impianto anche la sera, magari proprio per ricaricare la tua auto elettrica. Quattro le versioni disponibili, City, Life, Business e la più completa Tech. Sistemi di sicurezza al top, Adaptive Cruise Control, Lane Assist, Front Assist, Lane Keeping Assist Plus e tanti altri. Fanno di questa nuova Volkswagen una delle auto più sicure della sua categoria. Siete persone sempre aggiornate sugli ultimi trend della società e magari attratti da tutte le novità? Siete tra coloro che a Natale scelgono di regalarsi un elemento di design? Beh, allora ID4 è la vostra auto. Un po' di numeri. 543 litri di bagagliaio, 520 chilometri di autonomia, un'accelerazione da 0 a 100 in appena 8,5 secondi, con una potenza di 150 kilowatt. 458 centimetri è la sua lunghezza, 9 in più della Tiguan, mentre 185 è la larghezza, con un raggio di sterzata di appena 10,2 metri, meno di quello di un Apollo. Fanno di questo nuovo SUV una delle auto più versatili e spaziose del mercato automobilistico. Un altro numero importante è 1200 kg. Che cos'è? È la capacità di traino di ID4. Questo dato, che potrebbe risultare scontato per una vettura a combustione, è invece eccezionale per una vettura 100% elettrica. Pensavate fosse finita qui? E invece no. Adesso è il momento di spremerla per bene. Con lui. Sei pronta, Lia? Lacciato bene la cintura? Vai pure. Vai. Abbiamo anche le cinture intelligenti. Anche da qui non ti muovi. Prenata e accelerazione, la macchina si comporta decisamente molto bene. Ah, comunque spinge tutta la cazzadina, eh? Che sfigata. Senti come molla dopo, quando sei in acelerazione. Poi senti come ritira. Comunque è incredibile cosa fanno queste macchine elettriche, eh? È bella anche così, eh? In angolo, frenata in angolo, bella dentro, si ferma bene. Si comporta bene, quindi? Si comporta bene, sì. Secondo voi com'è andata? Elia? Io direi molto bene. Te com'è sembrata? Ci siamo divertiti, la macchina si è comportata da Dio. Allora, con driving per oggi abbiamo davvero finito. Ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.